Raga, finalmente posso parlare di un disco senza doverlo attaccare sotto ogni fronte, Shiva a parte, che Shiva è come la muffa raga, purtroppo nel momento in cui c'è un minimo di umidità, possiamo dire che è successo, c'è Shiva, il figlio dell'algoritmo, per non dire figlio di P. Allora, Bella Ernia, Bella Ernia, mi è piaciuto molto questo disco, mi è piaciuto moltissimo, mi è piaciuto molto la scelta dei beat, devo dire che sono tutti molto belli, semplici, non troppo appariscenti e che hanno melodie toccanti. Nella loro semplicità, ma che lasciano spazio al testo, quindi tu vieni intrattenuto a livello emotivo da questi arrangiamenti che però fanno da traino, non sono un Titanic, sono una barca. E tu sei nella barca e ti godi il viaggio, ti godi la parola, quindi ottima scelta. Ottima scelta anche i brani e le tematiche. Cioè, vedete, si può fare musica relativamente seria, in maniera non troppo pesante. Si può fare un disco che venda, che generi click, senza, con pochi feat ma buoni. Vabbè, questa me l'ho sparata. Togliamo sempre il solito sciva, effettivamente i feat ce ne sono, però magari racchiuse in tracce, quindi non è che ogni traccia ci sta un feat, per intenderci. Quindi si può fare, magari ne avrei fatto un paio in meno, però si può fare, anche se quelli che ci stanno, mo ci arriviamo ai feat. Anzi, arriviamoci subito. Fabri Fibra ha fatto una strofona. Fabri Fibra, quando fa il feat, è molto pericoloso, perché uno su tre ti fa la strofa a cazzo. Ti fa la strofa giusto perché la devo fare, la marchetta, come con Francesca Michelin. Vabbè, che lui ti ricaccia sempre quel flow da feat, capito? Quell'atteggiamento da feat, so beh, chi conosce Fibra sa bene di cosa sto parlando. Fibra, quando deve fare il feat, diciamo che nonostante sia il mio idolo, il mio preferito, quello che mi ha aperto il mondo del rap, sarebbe un sogno collaborare con lui. Insomma, io se dovessi investire un budget per le collaborazioni non lo darei a Fabri Fibra. Cioè, ci collaborerei solo faccia a faccia, che siamo lì in studio, che lui ci tiene al progetto, magari ti contatta lui, ma che io devo far fare la marchetta a Fabri Fibra potrebbe finire malamente. Non è questo il caso, perché qui Fibra fa una grande, grande strofa in cui mette su due piani la musica e fa capire che la musica del cazzo appunto fa parte del sistema del cazzo. La musica invece che resta poi può restare. Certo, il rap di oggi non è che dici, deve restare per forza, però il contenuto ha il suo peso, la merda galleggia, il contenuto va a fondo. E noi a fondo vogliamo essere. Quindi ringrazio Fabri, ringrazio Luque, che ha fatto una gran bella strofa. Anche, vabbè, il pezzo molto particolare. Non ringrazio affatto Tedua, che, raga, Tedua è diventato lo zimbello del rap. Tedua, ragazzi... Oh, ma che ha fatto Tedua? Io, a parte che di questo disco mi piace tutto tranne il remix di Puro Bogotà. E non perché sono il classico purista del cazzo, ma perché hanno fatto un remix da mixtape di quella traccia. Mi viene in mente venerdì 17 mixtape, sempre di fibra. Cioè, questa non è una roba che la puoi fare in un disco così, farlo passare in maniera seria, come se stessi facendo la rivoluzione, come se stessi facendo il remix di Puro Bogotà. Cioè, questa è una cosa unofficial, fan made. Ma non è un pezzo... cioè, non ti puoi prendere questo diritto se lo fai in questo modo. Se ti vuoi prendere il diritto di fare il remix di Puro Bogotà, tiri fuori le palle e lo fai in un certo modo, lo fai bene. Non così. Così no. Soprattutto per quanto riguarda Tedua. Rcomi troppo troppo salva, ma comunque il contesto è sbagliato. Tedua, raga, non lo so cosa gli è successo. Toglietegli un po' di streaming, toglietegli un po' di successo, toglietegli un po' di soldi, toglietegli un po' di capelli, un po' di convinzione, perché il ragazzo non si sta rendendo conto di quanta merda sta producendo e di quanto non vale più un cazzo rispetto ai suoi compagni che invece stanno andando forte, come Ergna in questo caso. Un bel disco dalle prime tracce. Tracce melodiche. Tracce che comunque tu le ascolti e ti rimangono. È gradevole all'ascolto. Io l'ho ascoltato in vari momenti, mentre gli facevo la doccia, mentre stavo lì con le cuffie a fare l'ascolto singolo e il disco mi è andato diretto. La Madame, come al suo solito, insomma, fa il suo. Qui non si è sbilanciata troppo. Diciamo che il top fit l'ha fatto con l'anima, con Marra. E qui ha cercato un po' di fare anche quella, di seguire quell'onda, ma, insomma, il tiro da tre da metà campo riesce una volta. Poi ti devi avvicinare. E qui si è un po' avvicinata, quindi bel tiro, però, insomma, nulla di così eclatante. Però, raga, in conclusione a me sto disco è piaciuto molto. Ho parlato di tutti, non è che di Ernia, perché quando c'è un disco pieno di fit io mi concentro sui fit. Devo essere sincero, perché il pezzo, un artista come quando fa un concept album, e credo che sia questo il caso, e ringrazio Ernia per aver fatto un concept album, perché oggi i dischi sembrano delle compilation. Comunque il mood è uno, è come se fosse un unico pezzo di 50 minuti. E questo concept album a me piace, funziona, perché, appunto, come ho detto prima, è leggero ma peso allo stesso tempo. È melodico, ma ha underground allo stesso tempo. Racconta un certo mondo e ha una sua poetica, ma è moderno allo stesso tempo. Si sa romanzare, ma allo stesso tempo non è troppo, non si romanza troppo, come fa Tedua. Mi è piaciuto molto, consiglio l'ascolto. Ovviamente non è un disco che magari lo ascolti a percussione, o magari domani me ne sono già scordato, con molta probabilità. Però è stato bello ascoltarlo e prepararci un audio, anche solo a livello mentale, perché tra tanta musica che non vale, è sempre bello poter fare i complimenti a qualcuno. Grazie a tutti.